signora allora dove avevo intenzione di farlo il fosso? si allora voglio che veniate dietro a penetrare e voglio anche che mi facciate il buco abbastanza largo guardi non vorrei fraintendesse ma... ma quanto c'è l'allungo? cosa? eh il coso il coso cosa? il coso per penetrare là credo ci sia un malinteso ah quindi è abbastanza esteso? signora mi sto mettendo abbastanza a disagio puzzi di formaggio secondo me lei non sta bene mi vuole prendere a colpi di pene signora credo proprio ci dovrà rivolgere un'altra azienda mi dispiace no aspetti avevo preparato anche un po' di caffè